non è per niente facile fare fotografie in una piccola città quando le capitali sono grandi il nome capitale diciamo che ti aiuta tantissimo a fare fotografie di gente che vive la giornata ma qui è un po difficile perché le persone sono poche e sto cercando un attimo di trovare lo spunto di trovare i posti sono belli le luci sono belle ma non amicano le persone passa qualcuno così è sfuggito andiamo un attimino a cercare perché la vedo un po complicato non vorrei fotografare gente in schiena tutta la sera avete sentito mai il proverbio la fortuna aiuta gli audaci ecco non è tanto un proverbio ma è una verità perché l'audace è una persona che ha un cuore forte e aperto pronto a qualsiasi cosa ecco il cuore è un gate importantissimo fra due mondi in cui viviamo per tutta la nostra vita uno esteriore e uno spirituale ora se questo gate è chiuso c'è un problema di ego da qualche parte o un ego spirituale o un ego esteriore invece quando hai un cuore aperto quindi sei un impavido uno che non ha paura di niente un audace questa energia passa da dentro a fuori da fuori a dentro dentro fuori e il cuore pulisce dentro fuori fuori dentro e trovi tutto quello che cerchi di un'altra situazione di un'altra situazione Sous-titrage ST' 501 ...